Gli agenti del commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto a carico di un 44enne, quella degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico a carico della compagna 41enne per violenza sessuale ai danni di minore. Vittime ai figli dell'uomo, costrette a subire violenza sessuale, angherie e vessazioni anche in presenza di altre persone. Circostanze che sono emerse solo quando i due bambini sono stati assegnati a famiglie affidatari dai locali servizi sociali. Le dichiarazioni delle vittime e le testimonianze rese dei genitori affidatari hanno sin da subito delineato una grave situazione di abuso. Le indagini effettuate dai poliziotti, dai commissariati di Barcellona Pozzo di Gotto, Capodorlando e Milazzo e coordinate dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto diretta dal procuratore capo Emanuele Crescenti hanno confermato la gravità dei fatti contestati con il sequestro di materiale video relativo agli abusi e portato all'emissione della misura cautelare a carico della coppia. A Messina invece un quarantenne è stato arrestato e poi condotto al carcere di Gazi. Si contesta maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, resistenza in minaccia pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Vittime l'ex compagna e i due figli minori.